Mafia Ortodossa, un'organizzazione militarmente organizzata delita alla riscossione del pizzo su tutta l'area del Peloritano. Sono 40 gli arrestati di questa mattina nell'ambito dell'operazione Gotha 7, smantellata la famiglia mafiosa dei barcellonesi. Via al piano rifiuti. Il presidente della regione ha illustrato la scorsa sera a Larsi i punti del piano realizzato per far fronte all'emergenza rifiuti, sia alla differenziata al compostaggio e al conferimento da post trattamento, ma no ai termovalorizzatori. Risorsa pubblica. Inaugurata all'ospedale Villa Sofia di Palermo la nuova sede del centro unico interaziendale della Sicilia occidentale per la procreazione medicalmente assistita. Una risposta all'avanguardia della sanità pubblica ai costi onerosi di quella privata. Orgoglio palermitano. Con quattro nomination, il regista Luca Guadagnino ha portato oltreoceano il suo film Chiamami col tuo nome, sbarcando a Hollywood e candidandosi a quattro premi Oscar. Da domani nelle sale, il film racconta una storia d'amore tra due giovani ragazzi vissuta in una sola estate. E ben trovati amici telespettatori a questo nuovo appuntamento. Con la nostra informazione questi nostri titoli apriamo subito con la cronaca. Incubo dei commercianti del Messinese avrebbero mantenuto una sorta di regime tradizionale della mafia ortodossa. Sono 40 le persone arrestate questa mattina nell'ambito dell'operazione Gota 7 smantellata alla famiglia mafiosa dei barcellonesi. Collocavano una bottiglia contenente liquido infiammabile vicino alla saracinesca dell'attività a cui avevano mirato per poi successivamente recarsi di persona presso l'attività commerciale richiedendo all'esercente il pagamento del pizzo. È questa una delle tante modalità estorsive attuate dalla cosca dei barcellonesi ed emersa nell'ambito dell'indagine Gota 7 che questa mattina all'alba ha tratto in arresto 40 persone disarticolando il clan messinese di Barcellona Pozzo di Gotto. A fornire dettagli rilevanti all'inchiesta le dichiarazioni del capo mafia ora collaboratore di giustizia Carmelo D'Amico arrestato nel 2009 nell'ambito dell'operazione Pozzo e di altri collaboratori come Salvatore Campisi, Franco Munafo e Alessio Alesci. L'odierna operazione colpisce presunti vertici e affiliati di quella che è stata definita dagli investigatori la fazione più ortodossa e militarmente organizzata della criminalità mafiosa della provincia peloritana svelando i rapporti tra il clan messinese e gli esponenti di Cosa Nostra palermitana e catanese. Circa 30 gli episodi estorsivi ricostruiti dagli investigatori. I fedeli infatti si recavano dai commercianti in occasione delle festività di Natale, Pasqua e Ferragosto pretendendo il compenso monetario ma non solo. Nel mirino infatti oltre ai titolari delle attività commerciali vi erano anche imprenditori titolari di appalti o subappalti che avrebbero dovuto dirottare l'incarico a ditte controllate dagli esponenti mafiosi. Nell'ambito della stessa indagine è emerso inoltre il movente che nel settembre 2017 portò all'aggressione di un professionista barcellonese colpevole di aver denunciato un'estorsione subita. Scovati anche due arsenali contenenti innumerevoli armi da sparo, comuni e da guerra sequestrate dai carabinieri e dalla polizia. Individuate infine anche due società reconducibili a cinque esponenti dell'associazione criminale. Ed è di un morto e due feriti il bilancio di un grave incidente che si è verificato nel pomeriggio di ieri nella bretella che collega la strada statale 640 con il bivio per Favara e Aragona. A perdere la vita Michele Palumbo di 68 anni, carpentiere ormai in pensione. L'uomo era a bordo di una Peugeot 206 che per cause in corso di accertamento si è ribaltata più volte. Palumbo è stato sbalzato fuori dall'abitacolo e per lui i soccorsi sono risultati vani. Ferite le due donne che erano a bordo dell'auto con lui di 46 e 42 anni, una delle quali era alla guida del mezzo e che sono state trasportate all'ospedale San Giovanni di Dio di Agrigento. Avrebbe violentato in più occasioni complice il silenzio della madre una ragazzina di 13 anni, figlia della donna con cui aveva ormai intrecciato una relazione. Adesso arrivano le condanne per un 53enne di Barcellona Pozzo di Gotto e per la madre che avrebbe favorito i rapporti. Il barcelonese era già noto alle cronache perché indagato in un'operazione antidroga. Vediamo. Avrebbe violentato in più occasioni complice il silenzio della madre una ragazzina di 13 anni, figlia della donna, con cui aveva intrecciato una relazione. Adesso arrivano le condanne per un 53enne di Barcellona Pozzo di Gotto e la madre che avrebbe favorito i rapporti. Il barcellonese, già noto alle cronache perché indagato in operazione antidroga condotta dalla polizia di Gioia Tauro, è stato condannato a 10 anni di reclusione, 9 anni invece per la madre della ragazza. Secondo quanto documentato dalle autorità inquirenti, le violenze si sarebbero registrate con regolare ciclicità nel silenzio compiacente della madre della minore, compagna dell'uomo. L'uomo riconosciuto colpevole è finito in carcere il 4 maggio del 2016 per decisione della Cassazione, che ha accolto il ricorso dei magistrati contro la decisione del GIP che non aveva consentito l'arresto iniziale. Assieme all'uomo il tribunale ha condannato a 9 anni di reclusione, come dicevamo, la madre della ragazzina, una donna di 41 anni, la quale avrebbe imposto alla figlia un lungo periodo di silenzio per coprire l'uomo con il quale aveva iniziato una relazione. La ragazza, che non aveva avuto l'aiuto della madre, è stata poi costretta a rifugiarsi in una casa famiglia di Messina. Già il 16 dicembre del 2015, prima dell'arresto, all'indagato era stato imposto il divieto di dimora nei territori di Barcellona e Messina. Alla donna invece si contestava il concorso nelle violenze perché pur ricevendo le confidenze della propria figlia sulle continue attenzioni a cui era sottoposta, aveva difeso l'uomo con il quale intretteneva rapporti e per tale reato è stata condannata a nove anni di reclusione. E cambiamo argomento, avrebbero riscosso somme non dovute per prestazioni rese all'ASP di Enna, sequestro di beni per tre dirigenti di una società catanese che gestiva il servizio Cap Calcenter e riscossione ticket per l'azienda sanitaria Ennese. Contestato loro il reato di peculato, vediamo. Beni per un valore di 443 mila euro sono stati sequestrati dalla Polizia di Stato e dalla Guardia di Finanza nell'ambito di un'indagine che ha fatto luce su una frode nella riscossione dei ticket sanitari all'ASP di Enna. Il provvedimento ha riguardato tre persone, l'amministratore unico e due gestori di fatto della società catanese affidataria del servizio di gestione integrata del CUP Colt Center e riscossione ticket dell'azienda sanitaria Ennese. Gli indagati dal mese di maggio 2012 al mese di gennaio 2017 si sarebbero appropriati di un importo pari a 685 mila euro. Il reato contestato è quello di peculato aggravato continuato. Coinvolti nell'inchiesta un 42enne di tre mestieri etneo, amministratore della società affidataria del servizio e un 33enne, anche lui di tre mestieri, gestore di fatto della società insieme al terzo indagato. Gli investigatori hanno scoperto che la società in questione inviava regolarmente all'ASP copia delle disposizioni di bonifico, apparentemente regolari ma risultate senza versamenti grazie ai controlli effettuati dal personale dell'ASP che ha potuto recuperare solamente parte della somma erogata pari a 242 mila euro, ossia la fiduizione contrattuale incamerata e i residui corrispettivi dovuti per la prestazione contrattuale resa dalla società, chiusa un anno fa e successivamente messa in liquidazione. Sotto sequestro sono finiti una villetta, tre mestieri etneo di 203 metri quadrati, un orologio d'oro Cartier, una Fiat 500, nonché 13 quote di partecipazione in otto società. Sia alla differenziata, al compostaggio e al conferimento da post trattamento, ma no ai termovalorizzatori. Questi alcuni dei punti presenti nel piano realizzato per far fronte all'emergenza rifiuti targato Musumeci che dichiara a sua volta entro il 2019 10 piattaforme per la differenziata. Puntiamo alla messa in attività delle 10 piattaforme per la differenziata entro il 2019. La Sicilia non ha bisogno di termovalorizzatori. Questo quanto dichiarato dal presidente della regione Nello Musumeci a seguito dell'incontro avvenuto la scorsa sera a Lars per rendere noto quanto stabilito insieme al premier Gentiloni durante l'incontro a Roma. Ho chiesto a Gentiloni di mettere l'isola nelle condizioni di poter neutralizzare i tempi lunghi che l'emergenza non potrebbe sopportare, ha dichiarato il governatore, con la nomina di un commissario di sua fiducia o in alternativa affidando a Meli in carico di commissario. Musumeci ha poi illustrato dunque quali sono gli interventi previsti nel piano. Sì alle piattaforme per la gestione della differenziata, al compostaggio e al conferimento da post trattamento, così come alla riduzione degli ambienti territoriali ottimali a 9. Il piano stralcio per la realizzazione delle opere in programma dovrebbe essere realizzato a detta di Musumeci stesso entro il prossimo febbraio. Il piano stralcio per la realizzazione delle opere in programma dovrebbe essere realizzato a detta di Musumeci stesso entro febbraio. Solo in un secondo step, che prenderà il via entro maggio, verranno attivate misure di fiscalità di vantaggio per le imprese che investono nel riciclo e penalità per chi non raggiunge almeno il 50% della differenziata. Il ciclo dei rifiuti per il governatore dovrà inoltre aprirsi e chiudersi nella stessa provincia, ma in alcune province troppo estese si potrebbe pensare a due ambiti o comprensori. Scelta quest'ultima che spetterà al Parlamento regionale. Intanto non tardano ad arrivare le mozioni targate Movimento 5 Stelle, PD e Claudio Fava, tutte però respinte, eccetto la numero 15, presentata da alcuni deputati di maggioranza, che impegna il governo a porre in essere tutte le azioni necessarie e urgenti, compresa la richiesta al Governo nazionale di pieni poteri per sopperire alla saturazione delle discariche, incluso il trasferimento dei rifiuti al di fuori dell'isola. È da riportare il numero degli ambiti territoriali a 9, quanti sono i territori provinciali. Inaugurata all'ospedale Villa Sofia di Palermo la nuova sede del centro unico interaziendale della Sicilia occidentale per la procreazione medicalmente assistita. Una risposta all'avanguardia della sanità pubblica ai costi onerosi di quella privata. Vediamo. Nuovi spazi per il centro unico interaziendale della Sicilia occidentale destinati alla procreazione medicalmente assistita. Inaugurati i locali della nuova sede di Villa Sofia presso il padiglione Biondo a Palermo. In questa sede si effettuerà l'arruolamento delle coppie e i controlli clinici, mentre nella sede del presidio ospedaliero Cervello, già operativa dal 2016, oltre ai controlli proseguiranno anche i cicli di trattamento. I nuovi spazi prevedono tra l'altro un laboratorio e tre ambulatori. I dati che abbiamo a disposizione ci dicono che sulle oltre 100 coppie che sono già state, che sono arrivate a completare tutto l'iter, abbiamo delle percentuali di successo di qualche punto al di sopra di quella che è la media nazionale. Credo che la sanità pubblica debba trovare la maniera di dare una risposta anche a queste persone e che non è giusto debbano ricorrere solo al privato qualche volta in condizioni che possono diventare troppo onerose per qualche famiglia. Una struttura che permetterà anche alle coppie meno fortunate di vivere la gioia del parto e del diventare genitori, seguendo l'iter preposto non in strutture private e in alcuni casi anche molto costose, ma in centri di sanità pubblica all'avanguardia. C'è molta ancora pudore, c'è molta riservatezza sull'argomento e quindi spesso le problematiche peggiorano anche per questo motivo. Si accede a una struttura che si occupa di fecondazione assistita con estremo ritardo. Un ambulatorio di fecondazione assistita nel settore pubblico è fondamentale perché veramente anche il ticket che tuttora si paga di 1000 euro per molte coppie è troppo. Si ha sicuramente più consapevolezza, più determinazione, questo sì magari rispetto ad una giovane mamma che rimane gravida all'improvviso, insomma senza avere pianificato la sua gravidanza indubbiamente c'è più consapevolezza, però è sempre bello comunque. È dura, questo sì, è dura. E voltiamo ancora a pagina. Dopo 50 anni il Teatro Massimo di Palermo ha accolto la prima del Guillantel. Grande successo di pubblico e tutto esaurito per la maestosa opera di Rossini. Sul palco un albero di tre tonnellate e mezzo. L'ultima opera composta da Giacchino Rossini scelta per aprire la stagione 2018 al Teatro Massimo di Palermo. Dopo 50 anni il palcoscenico del maestoso teatro ha accolto la prima, ieri sera, del Guillantel. Un'opera di oltre 4 ore e un debutto in francese per la creatura colossale che ha intrattenuto il pubblico il quale ha risposto con un tutto esaurito. Al centro del palco un grande albero di tre tonnellate e mezzo ha dominato la scenografia in mezzo ad altre due tonnellate di finto terriccio. 180 proiettori di luci e l'immancabile mela vera protagonista e simbolo dell'opera. Il filo conduttore della complessa trama è costituito dal processo di liberazione del popolo svizzero dalla dominazione austriaca. Figura principale è proprio il leggendario Guillantel che guiderà il suo popolo verso la libertà. Il tema della patria, espresso come sentimento di appartenenza e non in chiave politica, è l'atmotiv dell'opera, scenograficamente espresso dalle maestose radici dell'albero, la vita e la rinascita, tutti elementi che accompagnano il tema cardine del rapporto tra padre e figlio, la fiducia di Gemmi nell'abilità del genitore con la balestra e il suo vederlo come un eroe. Applausi fino a tardasera tra qualche malcontento per la regia di Damiano Micheletto, una volta sul palco insieme al suo staff. Grande successo del direttore d'orchestra Gabriele Ferro che ha guidato l'esecuzione della celebre overture e per il tenore Dimitri Korciak, interpreta di Arnold. Soddisfatti i vertici del teatro che hanno incassato l'attenzione di sovrintendente e manager di importanti istituzioni liriche dal San Carlo di Napoli alla National Academy di Kiev. Un palermitano candidato agli Oscar con ben quattro nomination, il regista Luca Guadagnino ha portato oltreoceano il suo film Chiamami col tuo nome da domani nelle sale nell'attesa della prestigiosa Kermess del 4 marzo a Hollywood. Un poker tutto palermitano, quello di Luca Guadagnino, il regista candidato agli Oscar il prossimo quattro marzo con il suo ultimo film Call Me By Your Name. L'opera di Guadagnino si è giudicata alle nomination come miglior film, miglior attore protagonista, miglior sceneggiatura non originale e miglior brano originale. Chiamami col tuo nome è l'adattamento cinematografico dell'omonimo romanzo di Andrea Siman, scritto da James Ivory. È la storia di un amore omosessuale tra il 17enne musicista Elio, figlio di un professore, e il 24enne Oliver, studente americano e assistente dell'Uminare. Un incontro avvenuto in un'estate anni 80 in un'Italia settentrionale a Fosa e dai colori caldi. Coprodotto da diverse nazioni, Call Me By Your Name ha avuto la sua anteprima mondiale al Sundance Film Festival 2017 e da domani sarà distribuito nelle sale. Il film ha già ricevuto importanti riconoscimenti. È stato scelto dal National Board of Review e dall'American Film Institute come uno dei dieci migliori film dell'anno. Ha ottenuto tre candidature al Golden Globe 2018 come miglior film, miglior attore e miglior attore non protagonista. Guadagnino dovrà contendersi la statuetta con i quotati La forma dell'acqua di Guillermo del Toro e Dunkirk di Christopher Nolan. Il regista è nato a Palermo 47 anni fa. Una volta completati gli studi scientifici al Galilei, ha deciso di dedicarsi al mondo del cinema. Una laurea con una tesi di storia e critica del cinema alla Sapienza a Roma e poi numerosi lavori. Adesso quest'ultimo film completa la cosiddetta trilogia del desiderio dopo Io sono l'amore è a Big Splash. Chiamami col tuo nome e io ti chiamerò col mio. E siamo allo sport. Per la terza volta in Sicilia e per la seconda a Palermo torna l'appuntamento con il campionato italiano Pararceri. Oltre 150 atleti con disabilità si contenderanno il titolo al Paloreto. La trentunesima edizione sarà dedicata a Libero Grassi. Dopo cinque anni e per la terza volta torna in Sicilia il campionato italiano indoor Pararceri. L'evento, giunto alla sua trentunesima edizione, sarà presentato domani presso la Sala delle Carrozze di Villaniscemi a Palermo. La cerimonia d'apertura si svolgerà il 2 febbraio presso il San Paolo Palace e a seguire le gare che si disputeranno il 3 e 4 febbraio al Paloreto di Palermo. Al campionato parteciperanno circa 150 atleti con disabilità fisiche e visive ed altrettanti tecnici accompagnatori provenienti da tutte le regioni italiane che ambiscono a conquistare un posto nella squadra che rappresenterà l'Italia all'europeo che si terrà ad agosto in Repubblica Ceca. Dopo le edizioni Capaci 2012 e Palermo 2013 in memoria di Peppino Impastato e Falcone Borsellino, la 2018 sarà dedicata all'imprenditore che si è ribellato alla mafia, Libero Grassi. Nel corso della cerimonia inaugurale dell'evento nazionale sarà infatti proiettato un video a lui dedicato. La Kermes è organizzata dall'ASD Diamond Arceri Palermo in collaborazione con la FITARCO, Federazione Tiro con l'ARCO, il Comune di Palermo e il Comitato Italiano Paralimpico con il patriocinio del CONI, dell'INAIL, dell'AMAP e dell'Unione Italiana Ciechi e Ipovedenti. L'evento sarà trasmesso interamente in diretta streaming e indifferita su RaiSport 1. Ciao, sono Elisabetta Mino, vi aspetto a Palermo dal 2 al 4 febbraio ai 31esimi campionati italiani pararceri. Ciao! E questa era l'ultima notizia per il momento è tutto, adesso vi lasciamo al meteo, grazie per averci seguito, arrivederci! Amici Trevi Meteo, bentornati a questo aggiornamento delle nostre previsioni per la giornata di giovedì che viderà un nuovo sistema nuvoloso atlantico avvicinarsi all'Italia, si scaverà un centro di bassa pressione sul Mediterraneo occidentale, quindi tempo che piano piano inizia a peggiorare a cominciare dalle zone più occidentali e così in giornata nubi in aumento al nord-ovest sull'alto Tirreno, qualche annuvolamento comincia a sfiorare anche la Sardegna e nel corso della giornata nubi in aumento anche al nord-est. Come precipitazioni arriveranno anche le prime piogge, soprattutto nella seconda parte del giorno, precipitazioni che interesseranno per ora solo le regioni nord-occidentali con anche il ritorno della neve in montagna. E così in definitiva questo giovedì sarà una giornata ancora bella al centro-sud anche se con nubi in aumento sull'alto Tirreno. Nubi però soprattutto nelle regioni settentronali, dicevamo al nord-ovest anche le prime piogge e neve sulle alpi centro-occidentali. Con questo è tutto, per dettagli vi aspetto su trebimeteo.com Grazie a tutti! Grazie a tutti! Grazie! Grazie!